Ah, 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 ah Anche stavolta il mio piano non ha funzionato La mocciosa e il cane hanno vinto per colpa di quegli incapaci dai miei assistenti Rassegnati, contro di noi non potrai mai vincere Ben detto Staremo a vedere, Cracky avrà catturato il vostro amico Cippi e... Ehi, ma stai parlando di lui? Credeteci o no, è stato davvero rilassante Gente, io...